Buonasera a tutti, questo è il 42esimo appuntamento del ciclo dei mercoledì con la società teosofica che fa sì che ci ritroviamo con questa modalità di una volta al mese, questa del 21 giugno è sostanzialmente l'ultima del ciclo prima della pausa estiva, riprenderemo poi alla fine di settembre. Siamo molto contenti questa sera di poter avere con noi Chiara San Giuseppe che è l'autrice di un libro estremamente interessante sul dottor Calligaris e chiaramente questa è una serata un po' dedicata al dottor Calligaris che quindi vuole essere ad un tempo una serata di presentazione di questo magnifico libro che lo vede comunque diciamo protagonista il dottor Calligaris di questo libro ma vuole essere proprio anche una serata un'occasione per tutti noi di approfondire diciamo il pensiero la figura di Calligaris ma anche di scambiarci delle informazioni in effetti la serata vedrà l'intervista di Chiara San Giuseppe a Chiara San Giuseppe ma all'inizio ci sarà un intervento di Diego Faienz presidente del gruppo teosofico triestino Edoardo Bratina che sia nella sua qualità diciamo di presidente di questo gruppo sia nella sua qualità di amico e collaboratore di Edoardo Bratina che poi con il Calligaris aveva avuto anche dei rapporti e naturalmente anche nella sua qualità di psichiatra e psicoterapeuta credo che anche la sua testimonianza potrà essere molto molto interessante vi presento brevemente la nostra ospite diciamo di questa sera Diego Faienz lo conosciamo moltissimi di noi lo conoscono lo conoscono bene Chiara San Giuseppe è laureata e specializzata in storia dell'arte è anche diplomata in naturopatia e iridologia presso l'Accademia Galileo Galilei di Trento con una tesi proprio su Giuseppe Calligaris quindi l'interlocuzione fra Chiara San Giuseppe e Calligaris è già consolidata nel tempo Chiara si occupa di medicina e terapie non convenzionali e naturalmente è vocata e votata anche a comprendere di più del nostro mondo e diciamo del posto che l'essere umano ha nell'universo ha scritto questo libro veramente interessante poi ce ne parlerà è un libro che ha un intreccio perché di fatto è un romanzo poliziesco in cui però la figura di Calligaris è ben presente e nello stesso tempo c'è una descrizione accuratissima della città di Udine degli anni 30 quindi è una specie di spaccato storico sulla città di Udine degli anni 30 in cui attivo e protagonista naturalmente Calligaris all'interno di un romanzo di tipo poliziesco anche avvincente e quindi sicuramente un libro di notevole spessore perché arriviamo a 364 pagine e che però come dire si legge veramente in un certo senso tutto dunfiato allora poi naturalmente intervisteremo Chiara e sentiremo sia la sentiremo sia sul discorso del libro che ha scritto ma anche in generale diciamo sul Calligaris e sulle sue ricerche adesso in apertura chiederei a Diego Faienz una testimonianza diciamo e un intervento proprio grazie a questa sua vicinanza al nostro mai dimenticato mitico segretario generale Edoardo Brattina che aveva dato grande attenzione all'opera di Calligaris Diego a te la parola Mi ringrazio sono contento di essere presente perché per me tutto quello che mi permette di ricordare Edoardo Brattina mi dà un momento di gioia Edoardo Brattina conobbe Calligaris negli anni 30 del 1900 e rimase colpito dal complesso sistema di riflessi cicocerebro viscero cutanei da lui studiati nacque con lui un rapporto di amicizia e di stima oltre che di rispetto Dice Brattina in una conferenza del 1977 che Calligaris non volle mai allontanarsi dalle solide basi della ricerca clinica e per questo Brattina fece ad Udine una serie di sparimenti con il Calligaris stesso ed apprese la sua tecnica Tra il 1934 e il 1938 il gruppo giovanile teosofico di Trieste fece Mi dicono ma non ho trovato conferme addirittura alcune centinaia di esperimenti simili Questo gruppo aveva come presidente il Calligaris stesso Aiutato dall'amico professor Costantinides primario all'ospedale psichiatrico di Trieste Tutte queste sono notizie che mi aveva dato Brattina E ripeto cose ricevute Quindi con l'aiuto di questo dottor Costantinides che era primario all'ospedale psichiatrico Il gruppo si sciolse perché non trovarono più medium e situazioni da valutare Io ho cercato in tutti i modi di recuperare questi esperimenti ma purtroppo nel passaggio dalla sede precedente A quella dove oggi la società teosofica da molti anni sono state delle cose che si sono perse Io questi li ho cercati, li cercherò ancora perché ci sono sempre degli angolini nascosti Però non li ho trovati Brattina sosteneva che Calligaris volutamente nascose alcuni passaggi dei suoi esperimenti Per il pericolo di sviluppare in persone non adatte telepatia, veggenza e poteri psichici di controllo Un esempio Seguendo le istruzioni di Brattina avevo provato a stimolare in sua presenza con uno stuzzicadente Alcune linee mediane sulle mie dita, ottenendo un breve flash di chiaroveggenza che non ricordo più nei particolari L'editore siciliano Antonio Giannone pubblicò nel gennaio del 1982 Le catene lineare del corpo e dello spirito di Calligaris L'anno prima venne in Friuli Venezia Giulia per conoscere i luoghi Non so oggi quanti editori possono pensare di fare qualcosa di simile Venne anche nella nostra sede teosofica di Trieste chiese a me di fare una breve presentazione del libro E da Brattina una prefazione ben documentata come sempre Vi leggo per concludere alcuni capoversi di questa sua prefazione che è appunto del 1982 Ho avuto il privilegio di essere stato a contatto con il professor Giuseppe Calligaris sin dal 1932 E di aver colto alcune confidenze sulle ricerche da lui effettuate, molte delle quali da me ripetute Perciò, al fine di prevenire futuri critici o sperimentatori, sento il dovere di ricordare E egli sperimentava generalmente su pazienti sensitivi I quali reagivano prontamente alla stimolazione E pertanto le ricerche venivano grandemente facilitate Tuttavia, la struttura del sistema nervoso è identico nella razza umana E perciò vi è un identico sistema di riflessi E gli stessi fenomeni si possono riscontrare in tutti gli individui indistintamente Per quanto riguarda le linee di peresterno I relativi riflessi viscerali e critici Si può affermare con sicurezza la loro esistenza In quanto sono stati verificati migliaia di volte Mentre le placche cutanee, anche a causa della difficoltà di centrarle con esattezza Sono state verificate meno frequentemente E perciò presentano margini di incertezza Il Caligaris aveva fretta di esplorare il settimo continente Ficosomatico per lui scoperto E non aveva tempo per soffermarsi sui singoli particolari Che lasciò ai futuri esploratori Per questa ragione anche le definizioni degli stati d'animo caratteristici di ogni stimolazione Sono da considerarsi indicative Suscettibili cioè di una classificazione più appropriata Dopo ulteriore e prolungata osservazione sui più diversi soggetti Indubbiamente la scoperta dei riflessi psicosomatici del Caligaris Apre nuove frontiere alla ricerca scientifica Ed apporta un notevole contributo al progresso dell'umanità Questo scrisse Edoardo Brattina nel gennaio del 1982 Concluso Grazie, grazie Diego per questa tua testimonianza E anche per appunto averci riportato queste considerazioni di Edoardo Brattina Comincerei adesso a fare alcune domande a Chiara San Giuseppe E la prima domanda è la più naturale Cioè come è nato l'interesse per Caligaris Perché credo, Chiara, che attraverso anche le tue risposte Io credo che potremmo delineare un po' anche la figura Diciamo di questo scienziato, di questo medico Di questa persona Che andò avanti per la sua strada con grande coraggio Nonostante tutte le difficoltà, gli intraversamenti voglio dire che subì Quindi ecco, la prima domanda è come è nato il tuo interesse Perché poi la figura di questo medico e scienziato ti ha affascinato Grazie, grazie a tutti di essere presenti Devo ringraziare il dottor Girardi per questa bellissima opportunità La storia mia con Caligaris è iniziata quando facevo l'accademia di iridologia e naturopatia di Trento Con due miei compagni di classe avevamo deciso di fare la tesi sull'iridologia E avevamo deciso di realizzare un dizionario di iridologia Per fare questo siamo andati a trovare i più grandi esperti che ci sono attualmente in Italia E uno di questi era Bolzano, il dottor Vincenzo Dispazio Che è allievo di Rizzi e quindi siamo andati a trovarlo nel suo studio E non mi ricordo come si è venuto fuori il discorso Ma lui è un grande conoscitore di Caligaris Prima di tutto ci ha parlato di questo suo lavoro che faceva con le placche spinali Che sono le placche relative agli anni della nostra vita Ciascuna vertebra ha una placca relativa a un anno della nostra vita Con le quali lui apriva ai ricordi le persone Per poi riuscire a gestire anche gli stati di trauma e queste cose Noi non avevamo mai sentito parlare naturalmente delle placche Quindi abbiamo cominciato a chiedere E lui come tutti quelli che conoscono Caligaris Con questo entusiasmo incontenibile Ha passato il pomeriggio a raccontarci l'esistenza e le scoperte del dottor Caligaris E ricordo questo viaggio in macchina di ritorno da Bolzano Dove naturalmente abbiamo deciso che questo dizionario di iridologia non sapeva da fare Perché bisognava assolutamente occuparsi di queste cose incredibili E sì che noi appunto come appassionati da sempre di medicine non convenzionali E di tutti questi mondi come dire al di là Eravamo molto... conoscevamo tante cose Insomma avevamo sperimentato tante cose Ma questa era una novità incredibile E da quel giorno è cominciata un'avventura che non finisce più Sono più di vent'anni E abbiamo cominciato a scrivere questa tesi Leggendo naturalmente i libri di Caligaris Che sono complicatissimi come voi saprete È una lettura faticosissima Ma nello stesso tempo interessantissima E abbiamo capito che ci mancavano un sacco di strumenti Perché bisognava come dire approfondire molto la riflessologia Di cui lui è uno dei più grandi esperti mondiali Poi la radiestesia che lui usa sempre Sempre perché i lavori sul testimone che fa per In tantissimi lavori con le placche È la radiestesia medica che era molto quotata al tempo Quindi abbiamo dovuto approfondire anche quello Poi noi ci siamo orientati soprattutto Infatti la nostra tesi è tutta dedicata alla diagnostica Ci siamo orientati soprattutto sui libri Proprio di medicina di Caligaris Di cui non parla più nessuno Perché dopo quando uno scopre le placche Relativa alla metapsichica Non capisce più niente E si dimentica di tutto il resto Ma Caligaris era naturalmente un grandissimo medico E un grandissimo neurologo E ha dedicato tantissimo del suo lavoro Proprio alla medicina Quindi a parte le tecniche diagnostiche Dell'autoscopia e l'eteroscopia Che sono interessantissime Ma aveva fatto questi grandissimi lavori Sugli agenti patogeni Di cui nessuno si è più occupato A parte un articolo che troverete online Sulla patogenesi di Caligaris Che cerca di capire un poco Cosa si potrebbe dire di questi agenti patogeni E poi aveva dedicato due libri al cancro Che sono quelli che poi praticamente Hanno fatto sì che i suoi detrattori Uscissero allo scoperto E in maniera molto plateale Con delle commissioni ministeriali Proprio ne distruggessero la figura E il lavoro Perché questi due libri sul cancro Prevedevano appunto una visione della malattia Che oggi sarebbe, come dire Più facile accogliere Visto anche i risultati poi Di altre tecniche Penso alle costellazioni familiari Penso alle cinque leggi biologiche Che stanno lavorando in questo senso Ma per allora era veramente troppo E lui ha insistito Perché era un uomo che non mollava mai E questo la dice lunga sul suo carattere Perché veramente avrebbe potuto fermarsi E far finta di niente Invece era così sicuro Che è andato avanti comunque Ecco, quindi noi ci siamo dedicati alla diagnostica E... Perché Chiara Praticamente Calligari Era... Insegnava all'università Era un medico famoso Aveva una clinica Sì, assolutamente Quindi... Sì, sì Era il classico Era... Fino a un certo punto Tutto la sua biografia Era la biografia perfetta Di un medico di inizi novecento Quindi... È un medico di buona famiglia Il padre era medico Avevano questa clinica molto famosa Udine Aveva fatto l'università migliori Perché aveva fatto praticamente tutto il corso di laurea a Padova E poi si era trasferito a Bologna L'ultimo anno Per potersi laureare col dottor Murri Che era il più grande clinico del tempo E poi appunto aveva tali entrature Che ha potuto andare a Roma e lavorare con Mingazzini E con tutti i più grandi neurologi e psichiatri del tempo Poi aveva ottenuto anche la libera docenza Io ho fatto queste ricerche presso l'università di Roma Ho trovato tutte le carte In realtà lui che ha sempre voluto farsi chiamare professore E comunque aveva tenuto pochissime lezioni Perché poi questa cosa della clinica Udine Lo aveva preso molto E poi dopo la guerra È stato talmente faticoso ricostruire tutto Questa clinica completamente distrutta con tutto il suo archivio Tutti i suoi lavori Che poi a Roma non è più andato Insomma non ha più insegnato Però ha pubblicato dei volumi su cui studiavano gli studenti universitari Il sistema extra piramidale Insomma aveva tutta una sua carriera Già preparata e pronta Ed era considerato uno dei grandi medici Anche dai suoi colleghi Poi nel tempo Come dire Non l'hanno Non sono più riusciti a seguirlo Questo è il punto È chiaro ma E poi voglio dire dopo questa esperienza della tesi Questo approfondimento eccetera Come è nata l'idea di questo libro diciamo? Allora quando abbiamo discusso la tesi Che era un librone alto così Perché insomma c'erano tante cose da dire Abbiamo avuto l'idea di andare a consegnare questa tesi Alla famiglia Caligaris appunto a Magredis E grazie all'entratura che aveva il dottor di spazio Che li conosceva E siamo appunto siamo riusciti ad andare a trovarli E con un'emozione incredibile Perché era veramente stata una grande emozione E poi in questo piccolo paesino vicino a Udine Siamo andati anche al cimitero A trovare appunto sulla tomba di Caligaris Che poi è la tomba di famiglia E io lo so che è una cosa che sembra molto letteraria Che è molto romantica Ma io sulla sua tomba Gli avevo promesso che avrei scritto la sua biografia Perché a parte le sue scoperte Leggendo i suoi libri In cui lui si palesa molto Cioè lui parla molto di sé Della sua fatica Delle sue arrabbiature Del suo modo di vedere il mondo Cioè questi libri Anche se sono contengono naturalmente Tutte le tecniche Anche tutta la teoria Che lui ha sperimentato Però fanno trasparire molto Della sua personalità Ed è una personalità così interessante Così umana Così vitale E così forte Che io che sono una grande immaginativa Me lo sono sempre immaginato Proprio Mi pareva di conoscerlo E siccome tutti questi suoi volumi Sono credo migliaia di pagine alla fine Sono venati da un dolore così profondo Del non essere stato capito Di avere la certezza Di avere fatto delle scoperte incredibili E importantissime per l'umanità E però questo senso di rifiuto Di abbandono Di essere deriso Che poi è classico Di tutti i grandi precursori Lo ha minato nel profondo Tanto che è morto di diabete Di diabete dicono Perché poi non si trovava l'insulina E così Ma se uno lo legge attraverso le sue scoperte Questo pancreas è anche legato al piacere E al piacere del lavoro E credo che veramente glielo abbiano distrutto Noi degli ultimi anni della sua vita Almeno io Magari voi E attraverso di voi Si riesce a saperne di più Non si sa nulla Quindi non sappiamo Se era stato costretto a vendere la clinica Se aveva Da qualche parte si legge Ma io non lo so E spero che la famiglia Magari un giorno ce lo dica Si dice che gli abbiano anche tolto La licenza di medico Ma questo io non posso dirlo Sicuramente lo hanno Come dire Lo hanno fiaccato proprio nell'animo Ecco e questo ho voluto scrivere Volevo scrivere la sua biografia Per dargli di nuovo il valore che merita Perché è incredibile che questo uomo sia stato dimenticato veramente Però la biografia classica Ho letto tante biografie di medici Per vedere un po' come si sarebbe potuto fare Non è stata possibile nel senso che non ci sono documenti sufficienti Per scrivere una biografia Bisognerebbe avere dati di prima mano Avere testimonianze Che non ci sono Allora per tanti anni Questa cosa è rimasta Un po' così Fino a quando Alla fine del 14 Ho avuto questa intuizione E ho detto Se non posso scrivere una biografia Si può comunque scrivere un romanzo Qualcosa in cui lui sia un protagonista E siccome la mia passione sono i gialli E poi Lui aveva scritto in questo suo libro Sulle immagini dei vivi e dei morti attraverso le placche In una piccola nota Che questo servirà alla polizia per le sue indagini Queste sue placche che lui stava scoprendo Potrebbero servire alle indagini giudiziarie Ho detto allora è un giallo E cominciamo da lì Quindi è nato questo libro E ce lo puoi spiegare un po' Questo intreccio molto particolare Questo è un Dunque Intanto bisognava Assolutamente Che lui fosse un protagonista E fosse protagonista Scusate Nella sua città E nell'epoca In cui lui aveva vissuto E Ho scelto il 35 Perché appunto stava uscendo questo libro Sulle immagini dei vivi e dei morti Che sono placche che poi vedremo usare anche nel giallo E era appena stato pubblicato E quindi Però bisognava essere Come dire Certissimi di tutto quello che succedeva In quei giorni in cui parlavamo E ti svolgeva il giallo Quindi ho fatto degli studi approfonditi Su quella Udine degli anni trenta Su tutta Naturalmente era una Udine fascista Perché C'era un fascismo in piena auge E C'erano tutte le autorità Che erano autorità fasciste Questo prefetto molto Famigerato Perché poi sarebbe stato un personaggio Famigerato E quindi ho cercato di ricostruire Nei minimi dettagli Dal Dai ristoranti Le osterie In cui davano i puliziotti Insomma Ho cercato di ricostruirla Di modo che uno Potesse veramente Essere lì con lui Come dicevo In realtà io questo libro È come se avessi sbobinato Un film Perché io Vedevo tutto Vedevo lui Come era vestito Cosa faceva Cosa mangiavano E quindi Il grande lavoro del romanzo storico Questo è un libro È un libro strano Perché Anche con gli editori Non sappiamo mai Come come nominarlo Questo libro Perché è un giallo Però è una biografia Però è un romanzo storico Però ha più di cento note Quindi È un oggetto Difficilmente Sì Le notte sono Estremamente interessanti Infatti Fanno parte integrante Sì Assolutamente Di questo libro E quindi È un giallo Poliziesco Classico Naturalmente Ho seguito Le leggi Del giallo Della Cornwell Che dice Che non bisogna assolutamente Che un giallo Venga risolto Da Magia Da Cose Particolari Quindi Non sarà Il dottor Caligaris Che risolve Il giallo Ma è uno Dei protagonisti L'unico amico Del commissario Che Attraverso le placche Lo indirizza E lo orienta Nelle indagini Però poi Naturalmente Questi delitti Saranno svelati Dalla Polizia Polizia Che Si trova Ostacolata Continuamente Da tutti i gerarchi Su cui deve Indagare E quindi Insomma C'è tutto un intreccio Che mi pare Funzioni Perché vedo Che Leggono volentieri Fra il resto È anche molto leggero Perché ho voluto dare Questa Leggerezza Anche a questo poliziesco Perché già È molto difficile Canigaris Perché ogni toto di pagine Poi arriva il dottor Canigaris Che sulle domande Del suo amico commissario Spiega Tutte le sue cose Ecco Quindi E Chiara Ad un certo punto Compare anche Brattina In una Certo Sperimentazione Certo Non potevo Non farlo comparire Naturalmente E quindi Ho inventato Questa domenica Casa Caligaris In cui Questo giovanissimo Brattina Giovanissimo Perché nel 35 Era giovanissimo Proprio per Aiutare Il commissario Insieme a un altro Un gruppo di Percepienti Giovani percepienti Che erano soprattutto Giovani donne E Altri studiosi Fanno degli esperimenti Sulle placche Per la prima volta Il commissario Come dire Viene Introdotto In questo Magico mondo Delle placche E poi Naturalmente Cito più Più volte La società teosofica Perché c'è Tutto il tema Dei fascisti Per cui c'è Appunto Il prefetto Che non vede Di buon occhio Il suo essere Così vicino Alla società teosofica Poi il racconto Del fatto Che ha firmato Questo Con Carlo Curti Questo manifesto Dell'azione unitaria mondiale E poi Il fatto che Grazie a voi Si hanno delle Delle informazioni Anche riguardo a Questo suo archivio Che è stato Disperso Venduto Rubato Ancora Non siamo Non abbiamo capito bene Dove è finito Doveva essere un archivio straordinario E una biblioteca straordinaria E insomma Nel libro Si parla Spesso Della società teosofica E di quanto lo avete aiutato E Chiara Che idea ti sei fatta Della visione del mondo Del Caligaris Perché io credo che Sia anche importante Appunto Come dire In qualche modo Avvicinarci Al mondo Di questa Assolutamente Allora Quando naturalmente Caligaris Ha cominciato A lavorare Su queste sensibilità Cutanee E su questi Riflessi Lo ha fatto Quando era già A Roma Sicuramente Non immaginava Dove sarebbe arrivato Con le sue ricerche E È stato Andare avanti E Scoprire Tutte queste Potenzialità Che ha Il sistema nervoso Perché lui su questo Voleva essere chiarissimo Appunto Lui era un grandissimo medico Un grandissimo neurologo Aveva una grandissima conoscenza Di tutto quello che era Il mondo metapsichico Perché Molti medici di allora Frequentavano Questo mondo Proprio per cercare di capire Non come adesso Che praticamente Come dire Lo disconoscono E basta Una volta C'erano tantissimi medici Che si occupavano Di queste cose E Mano a mano Che lui Andava avanti E scopriva Queste Meraviglie Le chiamavano Le meraviglie Dottor Caligari Si rendeva conto Che era necessaria Una teoria unificante Che tenesse insieme Questo Questa cosa Che si Derivava dal sistema Nervoso Che secondo lui Era la base Di tutte le potenzialità E dei superpoteri Dell'essere umano Ma soprattutto Il tema del futuro Lo ha messo molto in crisi Perché Fino a quando Come dire Uno dice Si riesco a rievocare il passato Fino a quando Uno dice Riesco a vedere Dietro a un muro Fino a quando Uno dice Riesco a far vedere Un cieco Sembra quasi Tutto possibile Tutto normale Ma la questione Del futuro Delle placche Che prevedono Il futuro Che Fanno la telepatia Chiaroveggenza Lettura del pensiero Ma soprattutto Quelle del futuro Lo hanno messo molto in crisi Perché Ci voleva una teoria Che spiegasse Dov'è questo futuro Visto che io posso vederlo E quindi Si vede nei suoi libri Questa grandissima fatica Perché Lui Chiaramente Diceva Io voglio mettere insieme Esperimenti su esperimenti Per essere inattaccabile Però Si rendeva conto Che a questi suoi Sia A quelli che lo seguivano Ma soprattutto Ai suoi detrattori Doveva dare Delle spiegazioni Che E che queste spiegazioni Benché molto Molto Attente E precise Rispetto al sistema nervoso Perché Poi Noi bypassiamo Tutte le pagine In cui lui Invece spiega chiaramente Ogni linea Quale Tipo di sistema nervoso Perché Per come E sia le placche Le spiegazioni Che lui dà E Allora Di cui Lui Conosceva tutti gli studi Altro personaggio Dimenticato Straordinario Quindi Anche lui Ha fatto a sua Anche con l'aiuto Del fratello Credo Perché il fratello Fernando Era Si Un Ingegnere Ma Si occupava anche di fisica E di fisica nucleare Quindi penso E si vede Che discutevano molto No Di questi Approcci Anche Rispetto Alla fisica Agli atomi Alle onde E Secondo Calligari Alla fine Quello che lui Insomma Ha cercato Di Spiegare Anche se Oscillava molto Secondo me Tra una spiegazione L'altra È che Questo nostro corpo È una specie Di radio Dove appunto La pelle Diventa La La Possibilità Di Di fissare Alcune frequenze E di fare Entrare Alcune frequenze Perché Noi siamo immersi In un Oceano Di frequenze Di oscillazioni Di onde Prodotte Da tutto quello Che è esistito Dalle piramidi A Platone Cattullo A Qualsiasi cosa E tutto quello Che esisterà Su quello che esisterà Ha fatto molta fatica A cercare di spiegare Questa cosa Perché Perché a un certo punto Ha fatto Come dire Ha dato una descrizione Che assomiglia un po' Al mondo archetipo Di Jung Insomma dove tutto Già esiste Quello è molto faticoso Ma tuttora Come dire Anche i moderni Ancora Non hanno mica Non hanno capito Come funziona Non solo Caligari Ma come funziona La preveggenza del futuro Comunque la cosa Che Io spero Che alla fine Della sua vita Abbia un po' Cambiato Come idea È questa idea Molto triste Del fantoccio Meccanico Perché lui Sostiene Che Essendo noi Mosti Prevalentemente Da tutti questi input Che ci arrivano Dall'esterno Che può essere Il colore verde Di una parete Una cintura Troppo stretta Un I nostri avi Quello che hanno fatto I nostri antenati È Un Oggetto In cui sono Rimaste Rimanenze Di un malato Di cancro Siamo Praticamente Mosti Da qualcosa Di esterno A noi Come fossimo Un fantoccio Meccanico E questa è la cosa Più Più triste Di questo Meccanicismo Di Caligari Ma io credo Che alla fine Non fosse Convinto Di questa cosa Perché ci voleva Qualcosa di più Certo E Mi pare Comunque Che il suo sistema È un sistema È un sistema che mette In relazione Diciamo L'individuo L'essere umano Come dire Con il cosmo Assolutamente Assolutamente È una visione Straordinariamente Moderna Mi verrebbe da dire Perché siamo Diciamo L'anteguerra Certo Certo Ma è Meraviglioso Come dire È una cosa Che sapevano L'umanità Sempre saputa Nessuno Come Caligari Lo ha Dimostrato Da un punto Di vista Scientifico E con esperimenti Replicabili Perché Altrimenti Sono tutte cose Che pertengono O A filosofie O Comunque A delle tecniche Di cui Poi non si conoscono I meccanismi Mentre Questa dimostrazione Che il corpo umano È praticamente Divino È Meravigliosa Attraverso La pelle Il cervello Gli organi Che sono tutt'uno Perché Praticamente Ha dimostrato Quello che la medicina Ha sempre supposto Parlando Di psicosomatica Ma lui l'ha dimostrata Come diceva Il dottor Fayette Naturalmente Diceva Che bisognava Continuare a studiare Perché questo è il punto Che qualcuno Deve continuare a studiare Ecco Perché Lui Ha prodotto Una quantità Formidabile Voglio dire Di volumi Quindi A me verrebbe da dire Che si è dato Generosamente Assolutamente Uno che applicava Il metodo scientifico Cioè lui faceva Sperimentazioni E le descriveva Perfettamente Le descriveva Voleva Che le persone Le replicassero Perché appunto Una La scienza Deve essere replicabile E lui aveva fatto In modo che lo fosse Che queste sue scoperte Fossero replicabili E succedeva Che chi le provava Rimaneva naturalmente Assolutamente Affascinato Da questo Pochi Andavano Oltre il fascino E la meraviglia Perché Bisognava Cominciare a studiare E Mettersi di nuovo In gioco Tantissimi Non volevano Neanche provarle Quindi Davano per scontato Che fossero Delle fole Che Come dire Di una Di una mente Molto creativa Il fatto che lui usasse Questi sensitivi Non deponeva a loro A suo favore Ma non è vero Che usava solo sensitivi Quindi Quindi Sì Diciamo che Lui era Uno sperimentatore E quindi Probabilmente Era Era privo Di tutta una serie Di preconcetti Come dire Che invece Altri Altri avevano Ecco Quello che mi sorprende Tanto E ti vorrei proprio Chiedere qualcosa A proposito E Come mai Come dire Oggi Che ci sono Come dire Delle possibilità Anche di indagine Attraverso Strumenti Sicuramente Più raffinati Rispetto a quelli Che Che usava Calligaris Ecco Perché Gli scienziati O qualche scienziato Di oggi Non arriva Magari A negare Le teorie Di Calligaris Ma attraverso Una sperimentazione Concreta Cioè Facendo un'indagine Verificando Sul campo Se Calligaris Aveva ragione Oppure aveva torto Ecco Questo mi sorprende Molto Beh dunque Intanto Calligaris Io credo Che Sia rimasto Nell'ombra Per Più motivi Alcuni Molto Storici E politici Insomma Lui è morto Nel 44 I suoi fratelli Sono morti Subito Dopo di lui Quindi questa famiglia Si è praticamente Smembrata Abbiamo detto Che il suo archivio È stato disperso Gli anni Erano quelli Del dopoguerra In Friuli Quindi anni Difficilissimi E quindi Per forza di cose Nessuno ha portato avanti Neanche questa memoria Di famiglia Insomma Poi Io credo Che Di sicuro È la difficoltà Del suo lavoro E della sperimentazione Perché Per sperimentare Sia le linee Che le placche Ci vuole Molto Molto Tempo Sono cose Che vanno fatte Con rigore Continuando A sperimentare Esattamente Come voleva lui Per vedere Tutti Le possibilità Che hanno Questi 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 Punti Sulla pelle Più delle volte Succede Ma questo lo dico Anche per me Io non sono poi Andata avanti Con la sperimentazione Ho aperto Alcune placche Ho gestito Alcune linee Iperestesi Cattivate Ma di più Non ho fatto Però Allora Capisco Perché Non ci sono Scienziati Che negano E che fanno Sperimentazioni Per negare Caligari Perché la fatica Per poi Poi doverlo Negare È tantissima Quindi Non credo Che nessuno Si metta A volerlo Come dire Già È considerato Un mattoide Nel 2001 È uscito Questo libro I mattoidi italiani E c'era dentro Anche lui Quindi ancora La nomea È quella Però Bisogna dire Che ci sono Delle persone Che invece Con costanza Come penso Al dottor Di spazio Che lavora Con le placche Spinali Hanno Trovato il modo Di applicare Alcune Delle cose Di Caligari Perché forse La cosa Che potrebbe Essere utile Alla riscoperta Di Caligari È invece Che Come dire Prenderlo Tutto E volere Fare tutto Prendere Alcune cose Che potrebbero Essere utili Che è un po' Quello che fanno Samantha Fumagalli E Flavio Gandini Con la scuola Di dermoriflessologia Che sono Le altre due persone Che si stanno Dedicando Con Scrivendo libri E poi con questa scuola A professionalizzare Degli operatori Che lavorano Su riequilibrio Degli organi Riequilibrio Della psiche Insomma Usano Queste placche Come un lavoro Di consapevolezza Di crescita Personale E poi Alcuni altri Ricordo Che c'era Però Non ho trovato Le cose scritte Che c'erano Degli archeologi Che stavano Lavorando Con le placche Di Caligaris Per vedere I reperti Capire cosa sono Come funzionano Chi li usava Si farebbero Migliaia Di applicazioni Di Caligaris Però Appunto Vedo questa domanda Bisogna trovare Il me Il modo E bisogna Per questo che io Intanto ho scritto Il libro E spero che Attorno al libro Si crei Una rete Di persone Che di nuovo Hanno voglia Di Di Sperimentare Perché bisogna Trovare un modo Per semplificare Caligaris Perché io lo vedo Anche durante Le presentazioni Del libro Non è Non si riesce A spiegare Tutto quello Che ha fatto Quest'uomo Perché solo Per parlare Delle catene lineari Solo per accennarle Insomma Ci vuole Un'ora Figurarsi Le placche Non arrivi mai A spiegarle Poi sono tutti Appassionati Appunto Della trasmissione Del pensiero Della metapsichica E così Quindi le sue cose Più da clinico Più da medico Più di diagnostico E così Non si arriva mai A parlarne Bisogna Trovare il sistema Io credo Che forse Siamo arrivati Al momento giusto Forse Anche Caligaris Ha voluto Non essere Così Pubblico Fino adesso Perché sapeva Rileggiamo Questa domanda Sì Aspetta Aspetta Che la rileggo Sì Sì Allora Allora Caliga Sì Sì Ho letto Effettivamente Come dire Come tutti i grandi Precursori All'inizio Vengono distrutti Perché la legge Classica è Prima ti ignoro Poi ti derido Poi ti condanno E poi vinci tu Perché questo è Quello che succede Sempre Rispetto ad Amer Lakosky Abbiamo detto È stato dimenticato Completamente A parte alcuni Radiestesisti Ma come dire Si contano Sulle dita Di una mano Di radiestesisti Che usano L'oscillatore Di Lakosky Che aveva Come dire È stato degli studi Straordinari Che non conosce Nessuno Amer E Cito vicino ad Amer Anche Ellinger Non lo sanno Ma devono Molto a Caligaris Perché Caligaris Le cose che dice Amer Sulle cinque leggi Biologiche E le cose che dice Ellinger Sulla Gli antenati E sul sistema Degli antenati Che ancora Ha un Come dire Riverbera Su di noi L'aveva L'aveva già detto Quindi anche lì Adesso Spero che Perché è giusto Ridargli il posto Che si merita Caligaris Perché lui Tutto questo Tutto Come dire Tutto quello Di cui adesso Vediamo Piccoli pezzettini Piano piano Che vengono fuori Riscoperti Ristudiati Lui aveva già Visto tutto Ecco Chiara Giustamente Enrico Chiede in chat Sarebbe possibile Semplificare Alcune parti Dell'insegnamento Diciamo Di Caligarsi Perché certamente I suoi libri Anche i venti Che conosciamo Che tu citi Citi in bibliografia Non sono di facile O semplice Per niente Per niente Per niente Infatti Citavo prima Fumagalli e Gandini Che ne hanno scritti Molti Su Caligaris Estrapolando A seconda Delle cose Di cui Si occupava Penso a un libro Sui sogni Per esempio Che anche quella È una tecnica Di consapevolezza Molto potente È un libro In cui si citano Alcune placche Sui sogni E alcuni modi Per utilizzarle Quindi Effettivamente Bisognerebbe fare Un lavoro Come questo Sapere Che cosa Ti serve Per che cosa Penso Per esempio Uno lavora Con le costellazioni Familiari Sugli antenati Allora Estrapoli Ma qui ci vuole Un'altra vita È la vita Di più ricercatori Estrapoli Tutte le placche Relative agli antenati Ne fai un protocollo Cerchi di sperimentare Facendone un protocollo E questo è il modo In cui Potrebbe essere Rimesso In auge Su come Invece Si possa Dal punto di vista Teorico Scrivere O un libro O un articolo O Spiegarlo Facilmente Quella È una delle cose Che spero Di riuscire a fare Insomma Io vorrei Trovare Una formula Facile Che faccia capire Cosa ha combinato Caligari Cioè Come mai Tutta questa roba Funzione Ecco E Paola Scrive Molto interessante I suoi circuiti Quelli di Caligari Fanno ricordare Ricordare le stringhe Della fisica Quantistica Questo è un commento Sì Questo non posso dire Perché non ho nessuna esperienza Di questo Però mi piacerebbe Che un fisico Provasse a spiegarci qualcosa Questo Sì Cioè Quello che spero Succeda Con il libro È che Questo Caligari Arrivi a persone Che mai Lo avrebbero Presentato Perché se poi Gli capita Sotto il naso A uno Che non lo cerca E che non Frequenta Come dire I nostri Mondi Può darsi Che gli si accenda Una lampadina Certo C'è un'altra Un altro intervento Di Alfredo Caligaris Scrive Ha ripreso Dalla teosofia Lo studio Sui poteri Latenti Dell'essere Umano Ed È stato Misconosciuto Della sua epoca Ma forse La fisica Quantistica Appunto Può riabilitarlo Ecco In parte Hai già Diciamo Risposto Direi Anzi Se conoscete Dei fisici Proviamoci Perché Se vogliono Ascoltarci Perché già Quando uno Comincia a parlare Di Caligari Così ti guardano Simpaticamente Ma Mentre L'intervento Di Di Andrea Invece È interessante Perché Andrea Diciamo Scrive Abbiamo trovato Delle ricerche Su Caligaris Nel libro Dell'artista Luigi Pericle E sappiamo Che ha molto Praticato Le sue tecniche Stiamo indagando Nei suoi scritti Work in progress E quindi Ti invita Ad Ascona Voglio dire A visitare L'archivio Di Luigi Pericle Molto volentieri Perché non sapevo Niente di questa cosa Veramente Grazie Diciamo che Questa serata Ha anche L'obiettivo Di In qualche modo Di 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 Aprire Diciamo Alcuni Canali Alcuni Fronti Di Ricerca Credo Che questo Sia molto Interessante Perché Dal punto di vista Teosofico Ci sono Due Aspetti Che vanno Sottolineati Allora E' chiaro Che nel momento In cui Persone Come Edoardo Bratina Attribuivano Importanza Alla ricerca Di Caligaris E' chiaro Che Un profondo Conoscitore Della teosofia Come era Bratina Ci induce In qualche modo A dare Grande attenzione All'opera All'opera Di Caligaris Vedendone Ovviamente Delle connessioni Con una certa Visione del mondo Basata Poi Su questa Su questo Concetto Di unità Della vita E La stessa Importanza A Caligaris Veniva data Anche da un altro Teosofo Che era Bernardino Del Bocca E anche questo Naturalmente Ci fa molto Pensare Perché Queste erano Sicuramente Persone Che non si Sbilanciavano Diciamo Casualmente Poi Il metodo Teosofico È un metodo Che vuole essere Onesto Intellettualmente Cioè Voglio dire Prima di Arrivare A delle Conclusioni Rispetto al Pensiero Di qualcuno Bisogna Coglierne Il respiro Bisogna Come dire Approfondire Bisogna In qualche modo Utilizzare E valorizzare Questi Pensieri Queste Sperimentazioni Queste Queste Idee Dopodiché Potremmo Anche Arrivare Alla Conclusione Che Calligari Si è Sbagliato Ma Come dire Non possiamo Aprioristicamente Invece Come hanno Fatto I suoi Detrattori A dire Siccome Questo Come dire Fa un tipo Di indagine Chiamiamola Non convenzionale Allora Non va bene No Le strade Nuove Si trovano Proprio Attraverso Le indagini Non convenzionali Quindi Io credo Che Calligari Meriti Oggi In qualche Modo Che La sua Opera Il suo Pensiero Le sue Sperimentazioni In qualche Modo Vengano Sicuramente Valutate Ci vogliono Di nuovo Dei pionieri Ci vogliono Sulla scelta Ufficiale Ho i miei Dubbi Qualsiasi cosa Che la mette Un po' In crisi O che deve Farle cambiare Idea Non è molto Ben vista Certo Però Piano piano Poi sappiamo Che la verità Si impone Quindi Certamente 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 Poi non sappiamo Nulla di quello Che sta succedendo In Russia Dove dicono Che questa cosa Questo Calligaris Invece Ha avuto Come dire Più sperimentatori Soprattutto Tra scienziati Che Si occupano Parlavamo Prima Delle stringhe Quantiche I ricercatori Russi Parlano Dei campi Torsionali Per esempio Per spiegare La chiaroveggenza E così Insomma Quindi Anche lì Bisognerebbe sapere Cosa sta succedendo Certo Credo Sì Sicuramente La Russia È sempre stata Molto attenta Diciamo Al campo Tradizionalmente Attenta Al campo Diciamo Delle Ricerche Psichiche Poi È chiaro Che magari Come ben Aveva Spiegato Diego Faienz All'inizio Rispetto Al pensiero Di Bratina Cioè Forse anche Calligaris Ha detto Non ha spiegato Come dire Apertis Verbis Tante cose Perché sapeva Che queste cose Avrebbero potuto O potrebbero Essere utilizzate Anche in modo strumentale Quindi Sicuramente Ma è per quello Che io credo Che questo oblio Come dire Abbia anche Un suo perché In tutti questi anni Forse però Adesso Ma è una mia Speranza Vediamo Se funziona Se non funziona Sono disposta Come dire Ad accettare Quello che Decide L'universo Però In un momento Nel quale Stiamo vedendo Una tecnologia E questo tentativo Di transubanesimo Che io trovo Terrificante Dove Assegniamo Le macchine I superpoteri Sapere Che invece I superpoteri Sono tutti Nostri E che non Occorre Come dire Possiamo gestirli Noi E gestirli Per il bene Dell'umanità Sarebbe Un altro Certo Un passaggio Diciamo Piuttosto Importante E Volevo anche Chiederti Anche un'altra Cosa Adesso Abbiamo parlato Diciamo Di questa Comune Mi verrebbe da dire Esigenza Di valorizzazione Dello studio E del pensiero Di Caligari E hai in mente Qualche progetto Particolare Chiara Allora Una delle cose L'ho detta È questa Di fare rete Tra Tra noi Che lo conosciamo E Metterci tutti insieme A me piacerebbe Questo Non per un convegno Ma per un splendido pranto In un bellissimo posto Dove tutti noi Che A cui non serve Spiegare Per filo e per segno Chi è Caligaris Cerchiamo di Di capire Di che cosa c'è bisogno In questo momento Per Caligaris Come fare A A renderlo più conosciuto Insomma Vedere come Poi A me piacerebbe Ritrovare Un gruppo Che faccia Esperimenti Però appunto Esperimenti Con Con degli obiettivi Cioè Non questi esperimenti Come ho fatto anch'io Tanto per No Adesso ci apriamo La placca Per vedere Senza occhiali Adesso Cioè Quelle cose Un po' così Un po' da Che Che sono utilissime Perché Se uno si apre Una placca Non la dimentica Mai più E Non ha bisogno Di altre Rassicurazioni Sul fatto che Carigaris funzioni Quindi Una sperimentazione Con degli obiettivi Ma penso Adesso Capisco Che magari È esagerata Ma Questa cosa Della visione Extraretinica Per esempio Le placche Per farvi Dei ricetti So che Tornando in Russia Stanno lavorando Non con le placche Di Caligari Ma Sulla visione Extraretinica Perché pare Che esista Veramente Insomma Questa visione Quindi Con alcuni obiettivi Di alcuni Mettere insieme Parlo di Protocolli Ma non In senso Di medicina Ufficiale Ma piccole cose Che sperimentate Sappiamo che esistono E che possiamo Per il pranzo Veniamo di sicuro Ad Ascona E Visto che abbiamo Anche il posto L'abbiamo trovato E No Piccoli protocolli Che sappiamo Che funzionano E che possiamo Su cui possiamo Far vedere Alle persone Delle cose Che hanno un senso Questo vorrei fare Dopodiché Se fossi in pensione E Potrei anche Per esempio Scriverne altri Di questi gialli Per andare avanti Mi sono fermata Nel 35 Con le cose Che lui Aveva scoperto Nel 35 Ma Ci sarebbe Da fare Tanto altro Insomma Vediamo Cosa succede Ma poi io spero Che sia l'universo Che mi dica Cosa devo fare Cosa devo E Chiara Nella Nella quarta Di copertina Tu Scrivi Pare che Axley Appunto Conoscesse Comunque Calligari Anche se Come dire Non conveniva Non aderiva Diciamo Alle conclusioni Di Calligari Stessa Non aderiva Perché non le ha Capite Dice Sono troppo Non le capiscono Sono troppo Difficili Però vuol dire Che era conosciuto Che era conosciuto Sì sì Forse più fuori Che in Italia Certo Per i francesi Questo grande Studioso francese Di psicologia Era il più grande Parapsicologo Del mondo Calligari Quindi Lo conoscevano Lo conoscevano Poi grazie anche a voi Perché è la vostra rete Poi che lo ha portato In giro Per il mondo Questo è vero E c'è un commento Anche di Alfredo Che dice La scienza ufficiale Nega ciò Che non rientra Nel suo paradigma Razionalistico E materialistico Però Siamo ottimisti Come diceva Gandhi Prima ci ignorano Poi ci diridono Poi ci perseguitano E poi vinciamo Beh Mi sembra Mi sembra Una cosa Una cosa Piuttosto Piuttosto interessante Bene Allora Io direi Che possiamo Avviarci Verso La conclusione Di questa Di questa Di questa serata Chiara Noi ti ringraziamo Molto Tu sei stata Portatrice Non soltanto Diciamo così Della condivisione Con Del tuo libro Diciamo Su Calligaris Ma ci hai Comunque Aperto Delle Finestre Ci hai Aperto Dei fili Delle reti Diciamo Di relazioni Io credo Che Come Pucanzi Affermato Il metodo Di lavoro Della società Teosofica Che è un metodo Molto serio Che è un metodo Molto sperimentale Che è un metodo Comunque Che tiene In grande Considerazione L'opinione Diciamo Degli altri Credo Che questo Metodo Si adatti Bene Al fatto Che bisogna Riaprire Una discussione Su Giuseppe Calligaris Non arrivando A monte Alle conclusioni Ma dando A questa persona A questo scienziato La possibilità Di tornare Protagonista Perché Non si scrivono 20 libri Di questa portata Pubblicati Ma soprattutto Non si dedica Una vita intera Ecco A questo Se non c'è Un fondo Di verità Io sono convinta Che lui Alcune cose Magari Le aveva anche Sbagliate Per carità Non è possibile Che da solo Perché poi era da solo A fare tutto questo Abbia sempre Avuto ragione Ma è La struttura Della sua scoperta Che va tenuta In considerazione Perché lui Lì Aveva visto Giusto Dopo sul fatto Che ci sia La banda Secondaria Dell'amor Di patria Discutiamone Ma Sì sì Certo Anche perché Era un uomo Del suo tempo Cioè Quello che Noi dimentichiamo Sempre Quando pensiamo A questi personaggi Storici Che per quanto Fossero Per cursori E uomini Aperti Intellettualmente A superare La propria epoca Vi erano però Immersi Ed erano Fatti Di quella Cultura Di quella Di quei paradigmi Sia culturali Che scientifici Quindi Lì È lì che bisogna Fare la tara Anche no Cioè non puoi Ridere Di una pagina Di Caligari Perché è stata Scritta negli anni Trenta Cioè bisogna Saperla leggere Certo Comunque Chiara Ti rinnovo Il nostro Grazie Io devo dire Che ho letto Il tuo libro Adesso lo recensiamo E anche Nel portale Voglio dire Se qualcuno È interessato Sia In una E credo Che sia Un primo Passo Veramente Molto Importante Perché poi Quando Quando parla Diciamo Anche nel romanzo Parla lui Parla Diciamo Con le sue cose Senza Sono le sue parole Sono le sue parole Che io ho messo Nelle sue Come dire Nel suo personaggio Lo faccio parlare Con le sue parole Certo Sono io che ringrazio voi Perché per me È stato un onore Immenso Essere qui E È un'emozione Poter parlare Con voi Che Che lo conoscete E Non posso far altro Che ringraziarmi E io rimango A disposizione Nel libro Trovate la mia E-mail Comunque Dottor Girardi Ce l'ha Se avete Bisogno Voglia Poi Verrò a trovarvi Stiamo in Compatto E procediamo Chiara Nella ricerca Ho messo Come Immagine Diciamo Finale Del nostro Appuntamento Di questa sera Ho messo Appunto Quello che abbiamo Esposto Nel 2002 Alla Sala Delle volte Di Assisi Quando abbiamo Fatto il congresso Del centenario Della società Teosofica italiana E il gruppo Di Trieste Aveva messo A disposizione Appunto Questa 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 attrezzatura Che era Di Bratina Sostanzialmente Che faceva riferimento Proprio agli Esperimenti Interessantissimo E io spero Davvero Che magari Parlare Di Caligari Si faccia In modo Che qualcuno Che magari A casa Ha qualcosa E non lo sa A qualche Per qualche Strano Gioco Della storia Ha un pezzo Di archivio Ha delle lettere A qualcosa Si faccia vivo Perché bisogna Rimettere insieme Un po' Di questo Questo archivio Che doveva essere Veramente Magnifico Perché lui Per essere In corrispondenza Con i più grandi Studiosi Del tempo Perché sapeva Che aveva bisogno Di qualcuno Che lo sostenesse Quindi cercava Appoggi Bene Allora Un rinnovato Grazie Chiara E Andiamo Alla conclusione Della serata Grazie Per la vostra Partecipazione Abbiamo aperto Una pista Diciamo Di indagine Importante Interessante E Sicuramente Porterà A Diciamo A qualche Novità E a dei risultati Non c'è Non c'è Ombra di dubbio Con I mercoledì Con la società Teosofica Torneremo Alla Torneremo Alla fine Di settembre Adesso ci avviamo Diciamo Al periodo Il periodo Estivo Io Vi auguro Auguro a tutti Una Buona serata Rinnovo il mio Grazie A Chiara E naturalmente Anche a Diego A Diego Faienz Assolutamente Che Tireremo Per la giacchetta Sul Caligaris Voglio dire Anche in altre Circostanze Diciamo Ed occasioni Buona serata Ciao a tutti Ciao a tutti